Il PD ha ufficializzato la propria decisione per quanto riguarda le regionali, sarà Crocetta il candidato. Dopo una prima incertezza adesso il Partito Democratico lo sostiene a pieno. Lei ha cambiato idea visto che era uno di quelli resti a questa candidatura? A me il metodo con il quale si è arrivata la candidatura di Crocetta non piaceva e non piace. Nel senso che io non sono per le autocandidature così come non sono per le decisioni fatte in una stretta elitaria di dirigenti senza una mobilitazione della base. Questo non significa che Crocetta non possa essere una risorsa, non possa interpretare un progetto vincente. A prescindere quindi dal merito io credo che Crocetta possa dare un contributo di svolta. Lei però non era presente alla riunione dove è stata ufficializzata questa novità? Non sono stato invitato ma non è importante che ci sia io. Io d'altra parte ho annunciato già che non mi candidò più quindi posso dare un contributo soltanto di idee. Pensa che Crocetta trarrà vantaggio dall'incertezza del PDL? È probabile ma c'è una crisi complessiva della politica. Ognuno è il referente di se stesso, i partiti si sono divisi. La mia grande preoccupazione è che possa essere eletta una classe dirigente subalterna alle vecchie logiche e i metodi che hanno caratterizzato la gestione della regione negli ultimi anni. Cosa pensa di Miciche e dell'MPA che adesso si è rinnovato? Ma io che l'MPA si sia rinnovato non lo vedo, nel senso che a dirigere le file è sempre Lombardo. Quindi non mi pare che l'MPA cambiando nome cambia logiche, cambia metodi. Ha già dato alla Sicilia quindi non credo che l'MPA avrà un grande successo. E Miciche? Miciche dipende da che coalizione metterà in campo. Se Miciche riesce a mettere in campo tutto il centrodestra può essere competitivo, altrimenti niente. Lei sta tornando su quello che disse già da tempo che non vuole più candidarsi alla regione. C'è stato un folto gruppo di esponenti del PD che ha scritto una lettera aperta invitandola a restare perché comunque crede in quello che lei ha fatto fino ad ora e in quello che potrà fare in futuro. Non l'ha convinta questa lettera? No, la lettera assolutamente mi ha fatto piacere, nel senso che avere tutta questa solidarietà è bello. Poi ho ricevuto, devo essere sincero, tanti messaggi da parte di direttori della regione, di cittadini comuni che mi invitano a continuare. Ma nella vita si possono fare tante altre cose. Dossetti diceva che nessuno si deve sentire indispensabile. Tutti siamo sostituibili. Politica a parte e regionali a parte. Soprattutto la vita amministrativa della regione si è fermata, sia perché siamo in agosto, sia perché appunto tutti pensano alle regionali. E la Sicilia ancora piange gravi problemi. Ma questo, guardi, è il dramma più vero e nessuno se ne occupa. Non c'è consapevolezza sulla gravità della situazione finanziaria. Ad esempio all'AMT non si ricevono gli stipendi, all'Aste non si ricevono gli stipendi. La formazione professionale è da dieci mesi che gli operatori non vengono pagati e non verranno pagati prima di settembre, quando inizieranno i nuovi corsi. Non ci sono state risorse per i distillatori, per le isole minore, per tante emergenze che veramente mettono in cinocchio la nostra terra. Cento giorni di paralisi con l'elezione, fatti tutti sugli slogan, sulle diatripe, tra i partiti aggraveranno ulteriormente la situazione finanziaria e economica della Sicilia. Mi auguro che il prossimo governo sia in grado di incidere sugli sprechi veri e sulle riforme necessarie per far decollare la nostra terra.